buongiorno buon pomeriggio a tutti quasi in partenza per Livorno stasera chi fosse a Livorno oppure negli intorni ci può trovare ci può trovare e faremo il nostro avanti avanti tour allora stavo sfogliando un po i siti e devo dire che come siamo bravi a montare la panna sul niente è davvero incredibile adesso c'è la polemica di Salvini sulla Cannabis Light su quei negozi come se fossero quello veramente il problema dei nostri giovani magari dei ragazzi che vanno nelle discoteche dove ovviamente si strafanno di Cannabis Light non c'è il problema delle pastiglie delle droghe sintetiche non c'è il problema di alcolici che vengono venduti sotto gli occhi di tutti anche a minorenni nei bar e quant'altro oggi il problema quindi è quello della Cannabis Light e su quello siamo pronti vedrete se non succederà questo e saremo pronti a dover commentare la qualunque sulla sparata di Salvini che evidentemente è troppo segnato dalla decisione che è stata presa da Conte Sussini e quindi ora tenta di riprendere un po' di terreno ovviamente secondo me i temi di cui discutere sarebbero ben altri anche addirittura lo dico con grande franchezza sarebbero ben altri anche dal casino che si fa sull'editore di Casa Pound se è giusto che abbia o non abbia lo stand nel salone del libro con tutti i problemi che ha la politica legati alla crescita economica di questo paese e degli sforzi che dobbiamo fare noi ovviamente perdiamo tempo sull'editore di Casa Pound poi ognuno è libero di pensarla come vuole io sono dell'idea che una decisione del genere sia corretta da prendere per il salone del libro e chi cura appunto questa manifestazione quindi se il salone del libro e i suoi organizzatori decidono di non dare più lo stand all'editore di Casa Pound è una legittimissima decisione del salone del libro ma ripeto non mi interessa neanche montare una questione su è giusto o non è giusto che abbia lo stand perché ripeto in questo paese abbiamo dei problemi molto più urgenti e anche molto più gravi anche la vicenda su cui apre il Corriere e credo anche Repubblica che è quella del... perché è intervenuto anche il Papa che ha ricevuto 500 Rome sinti in Vaticano e quindi che ci riporta alla questione di Casal Bruciato si riconduce secondo me sempre a temi sociali per esempio questo è il tema legato alle case popolari questo è un paese dove tutta la politica legata alla questione casa è sottovalutata noi abbiamo tantissime famiglie che sono costrette per motivi più diversi tra di loro a uscire da un'abitazione e sperare che ci sia un alloggio popolare a disposizione e il più delle volte appunto sulle case sul tema casa ti accorgi che o ne mancano oppure dovrebbero essere riorganizzate meglio poi c'è un altro fattore dove ci sono ambienti malavitosi che gestiscono come se fosse un aler illegale un aler in nero gestiscono la spartizione degli appartamenti ma il tema delle case e degli alloggi popolari secondo me è un tema di forte impatto politico questo sì che è un tema se poi ci mettiamo tutte le volte a fare la sfida tra ultimo e penultimo o chi ha diritto a quelle poche case o a quei pochi alloggi popolari non ne usciamo ed è esattamente quello che vogliono un po' alcuni cioè fare in modo che ci sia una bella zuffa tra ultimo e penultimo altra questione di cui volevo parlare è legata ad un articolo che avevo trovato nei giorni scorsi sul Sole 24 Ore e che non ho mai commentato guardate che è un articolo per molti versi inquietante perché è la fotografia di tutto quello che io sto dicendo da tempo guardate riguarda la classe media la classe media sempre più povera ha perso dal 2008 il 12% del reddito cioè in dieci anni di politiche fatte esattamente come le hanno voluto fare loro questo sistema dei cosiddetti perfetti Italia, la spesa sociale il contenimento degli investimenti pubblici cosa ha fatto? ha prodotto un impoverimento della classe media cioè non coloro che stavano nel limite di quella soglia che di solito viene stimata sui 15.000 euro è un po' la prima soglia per entrare nella classificazione della classe media ecco non ci sono più famiglie monoreddito che riescono ad acciuffare anche quei 15.000 questo ripeto è effetto di certe politiche quindi noi dal 2011 ad oggi abbiamo raddoppiato il numero di poveri dal 2008 ad oggi abbiamo un impoverimento della classe media ed era inevitabile se tu scivoli verso la povertà è chiaro che chi stava un pochino sopra e stava un pochino meglio scivola a sua volta e smotta verso il basso e in questo report sono indicate alcuni indici che sono preoccupanti è un tema italiano perché poi è sempre la solita vicenda ti dicono ah ma voi non siete capaci ah ma è colpa dell'Italia ah ma è colpa di qua no purtroppo questo è un tema che riguarda un po' tutti i paesi industrializzati cioè dall'inizio della crisi ad oggi per effetto di quelle politiche neoliberiste perché mentre noi ragioniamo di ritorno di rigurgiti fascisti ed altro l'unico ismo che trionfa come ho detto più di una volta è sempre il neoliberismo cioè l'aggressione verso i cittadini e verso i diritti dei cittadini e quindi anche uno studio un rapporto dell'Ocse indica e fotografa come in tutti i paesi industrializzati c'è stata una erosione della classe media allora questi secondo me sono i veri temi i temi legati a un reddito che sia più eco a imprenditori un po' più liberi e vanno liberati non solo dalla burocrazia che vabbè è un male di cui si parla da decenni ma nell'ultimo quindicennio l'ultimo decennio hai che i piccoli imprenditori sono anche soffocati da un sistema bancario e finanziario che tende a escluderli quindi secondo me questi sono i veri temi basta stasera sarò a Livorno da Livorno mi collegherò anche con Corrado Formiglia Piazza Pulita mi hanno detto che troverò Marattin del PD Fubini del Corriere della Sera e anche Luca Telese quindi ci faremo una animata discussione lo immagino, lo prevedo speriamo di riuscire a parlare perché io sono in collegamento da Livorno quindi con tutte le difficoltà dell'essere collegato dall'esterno però vediamo e di sicuro ce la giochiamo noi ci riaggiorniamo a Livorno con un'altra diretta intanto queste cose importanti secondo me era giusto fissarle insieme ciao a tutti